E facciamo un altro bell'applauso, la voce al mito, Pino! E facciamo un altro bell'applauso, la voce al mito, Pino! E facciamo un altro bell'applauso, la voce al mito, Pino! E facciamo un altro bell'applauso, Pino! E facciamo un altro bell'applauso, la voce al mito, Pino! 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 Schienze qui Schienze qui Schienze qui Voi 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 passare O sai ma che peccata Fatti qui alla Schiizzingeya Voi 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 Quando Per ogni tanto è buona, le prime parti Schizze che ha, schizze che ha Ora io voglio tratti che non muoro E ritrovarci in vero, sarà E ritrovarci ancora Un tuo sorriso, qualche storia però Il tempo sta cambiando Schizze che ha 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 Un po' va Oh, eh Yeah, yeah Un po' va Oh, eh Tanti voi popolo di questa meravigliosa città di Capua e provincia Facciamo un bell'applauso Buonasera E allora prima di tutto Vogliamo ringraziare la confraternita Maria Santissima Assunta Cielo E soprattutto gli organizzatori della Sud Eventi Show di Ciro Valletta e Vicenza Palmieri Grazie anche alla sua organizzazione e la sua eleganza E allora con un grande applauso accogliamo la nostra modella Noemi Yossa Un bel applauso, guardate chi Che meravigliosa ragazza, che bello spettacolo Allora, Noemi, quanti anni hai? Diciassette Cosa fai nella vita? Studio, sono al quarto anno di turismo, qui a Capua E vedo che fai anche la modella E facciamo, accogliamo anche questa occasione di ringraziare alla boutique sartoriale di Teresa Parisi Di Sparanise, che ha dato a disposizione questo bellissimo auto Che rappresenta un po' anche il manto della nostra carissima Maria Santissima Assunta Cielo E allora, volevamo ringraziare anche gli sponsor che hanno collaborato a questa bellissima manifestazione E salutiamo e ringraziamo Web TV Studios che avremo qui sabato e domenica Tabaccheria Polverino, il porticato che è qui alla nostra destra Poi abbiamo il caffè Nobre, piazza Maiella Capua, panificio La Misericordia Macelleria De Gennaro, caffè Duomo, acconciature barbiere shop Abbiamo Giumangi, paninoteca, tavola calda di via Santa Maria Capovedere 43 Capua Polleria Kunzo, toni sport per qualsiasi abbigliamento sportivo Vegliante ottica, ortofrutta palladino, macelleria o vecchio pagliaril I pelati profumeria, abbiamo ancora My Center, un centro di estetica Di guagliuna pizzeria qui fuori Forza Roma Capua E ancora Sessa gioielleria, autoscuola Dario Ferraro Santone Biancheria per la casa New Fast Service, autoscuola Dario Ferraro E ancora Sergio Spizza e assicurazione e pratiche auto a via Francesco Granata Capua E anche per ultimo Planet Queen 365 e Capua via Forza Roma Allora un bel applauso E volevamo presentare la band di stasera Che dà grande tributo, grande ed indimenticabile Pino Daniele E presentiamo il gruppo e sono ancora Alla voce Enzo Matone, un bel applauso Alla chitarra Pino Urriano Ed ecco qui Enzo La mitica voce di nostro Pino Daniele E alla batteria Antonio Liccardi Un bel applauso Ciao Vicenza Allora ringraziamo soprattutto che ha allestito meravigliosamente questo palco In un modo elegantissimo Vetti come si presenta a Vincenza In un modo veramente eccezionale Vi faccio i miei veramente complimenti per l'eleganza Sia del palco che di te Veramente una bella stilista Dovresti fare la stessa, sai, guarda Allora, Pino Parola a te Facci divertire Facci ricordare la voce del nostro indimenticabile Pino Daniele Buonasera E facciamo un altro bel applauso La voce al mitico Pino La voce al mitico E facciamo un altro bel applauso E facciamo un altro bel applauso